Convegno di Chirurgia Unita 2016, siamo in compagnia del presidente SICOP, il dottore Gianandrea Baldazzi. Ci vuole spiegare che cosa rappresenta la società che presiede? Buonasera, sì, io sono il presidente di questa società, in quanto ormai l'ospedalità privata italiana accreditata rappresenta una realtà molto importante perché fornisce circa il 30% di tutte le prestazioni sanitarie in Italia. Noi rappresentiamo la parte chirurgica, quindi una realtà importante che copre istituzioni di eccellenza grandi e importanti ma anche piccole realtà locali che comunque forniscono al cittadino un servizio molto importante e comunque di ottima qualità. In che modo la società si è radicata sul territorio nazionale? Ma ovviamente come tutte le cose arriva per piccoli passi, quindi è stato un anno dopo anno un lavoro mio e anche di tutti i presidenti che mi hanno preceduto nel cercare di diffondere questo messaggio in maniera tale da poter dar voce a tutte le realtà locali, anche le più piccole ma dove, ripeto, ci sono spesso eccellenze o professionalità di grande impegno e grande importanza che magari non riescono a trovare una modalità di espressione in grosse associazioni chirurgiche. Parliamo del convegno, del tema del convegno Chirurgia Unita che vuole significare proprio la sinergia tra i vari specialisti per la cura di una patologia. Che cosa ci può dire al riguardo? Ma io credo che questa sia un'idea molto importante. Io credo che in Italia sia ora di finire di cercare soprattutto nel mondo chirurgico di accentrare ogni tipo di politica sull'io e sull'immagine e sull'apparire. Credo che sia il momento dove bisogna sposare la politica del fare e il fare lo si fa soprattutto se siamo uniti. Quindi questa è un'occasione meravigliosa dove tutte le società chirurgiche devono lavorare assieme per trovare delle risposte migliori per i pazienti e per la cura dei malati. Quali sono gli argomenti su cui interverrà durante i lavori del convegno? Io personalmente mi occupo di chirurgia oncologica addominale e nella struttura a quale lavoro, che è il Policlinico di Abano Terme, ho la fortuna di poter avere macchinari importanti da robot alla chirurgia in tridimensione dove per rubare le parole al presidente della società di chirurgia diceva che ormai la chirurgia è tecnologia e la chirurgia non si può più separare dalla tecnologia. Quindi io mi occupo soprattutto di chirurgia addominale, di oncologia digestiva e riusciamo a trattarla io e in mille altre istituzioni con questa tecnologia che è veramente ormai inalienabile. per avere degli ottimi risultati per i pazienti.